Siamo riusciti a coinvolgere i ristoratori dell'area di Arzignano, siamo riusciti a ideare di Chiampo, di Crespadoro. Il numero sta aumentando, da tre siamo diventati sei e contiamo che in prossimo futuro diventare un gruppo molto numeroso. L'intento è quello di valorizzare i prodotti tipici del territorio e sono ben quattro gli appuntamenti con questi prodotti, ma anche i piatti della tradizione, i piatti antichi del territorio. Noi abbiamo voluto riscoprire i vecchi sapori del territorio, recuperare tutti i piatti del territorio, magari aggiornandoli in chiave moderna e creare nel contempo anche un flusso di visitatori turisti che vengono a visitare il nostro territorio. Quindi il nostro obiettivo, oltre per lavorare per le nostre botteghe, è importante far conoscere il territorio dove questi ristoranti sono collocati. Quindi assieme ci possiamo mettere i prodotti tipici, vedi caso che questa volta trattiamo l'uva garganica, la prossima volta andremo a trattare il prattufo e il formaggio di malga e poi in primavera riprenderemo col capretto quant'altro. Però nelle prossime riunioni abbiamo delle idee da sviluppare, quindi da far rendere questa manifestazione molto più interessante. Oggi presentiamo dei piatti a base di uva garganica, un'uva volcanica, dal gusto dolce ma anche minerale, che si abbina bene con dei piatti sia dolci che anche con carni, sia bianche che rosse, e con dei primi piatti degli antipasti, dove il suo gusto si abbina bene con i prodotti del territorio. E in questo caso noi oggi proponiamo un petto d'anatra arrosto con una riduzione di mosto d'uva garganica e un po' di frutti da passione. Grazie per la visione!